Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi un haul, un haul di Shein e in questo haul non solo vi mostrerò i capi che ho acquistato ma li mostrerò anche indossati. Premessa, ho comprato anche un costume e in questo caso il costume non lo indosso, vi farò vedere solamente com'è fatto. Iniziamo proprio dal costume, allora il costume che ho acquistato è un bikini, in due pezzi, questo è il sopra con il suo cordellino che va allacciato al collo, posso farvi dire così, questo. Praticamente mi sono stupita della qualità dei costumi e hanno sia l'imbottitura ovviamente alla fodera dentro e hanno anche l'imbottitura, come si chiama, il pesciolino che volendo uno può anche rimuovere ma nel mio caso lo terrò. Comunque sono veramente fatti bene, parlo sia di cuciture, almeno non so se è un caso, io ne ho ordinati anche altri che mi dovranno arrivare, quindi vi farò un video anche su quelli. Comunque anche in quanto cuciture sono fatti molto molto bene e devo essere sincera, secondo me sono anche meglio di quelli di Tezenis e di Calzedonia, almeno per il momento. Dopo bisogna vedere come reagiranno quest'estate con i momenti in cui si fanno bagnare con l'acqua salata. Io sinceramente gli ultimi anni mi sono trovata abbastanza male con quelli di Calzedonia perché mi si allentano tutti e comunque si scoloriscono anche molto facilmente. Questi qui appunto li ho voluti provare e ho detto gli diamo una possibilità, visto che comunque con altri capi di Shein mi sono trovata molto bene, quindi ho provato anche il costume. Come vi dicevo, questo è il sopra e questo è il sotto di questo colore qua e anche questo è foderato. Io ho preso una taglia S, sia sopra che sotto, ho fatto quello lì e ho acquistato il set già composto, ma ovviamente su Shein c'è anche la possibilità di acquistare o solo il sotto o solo il sopra spezzati e corrisponde alle mie misure, quindi per me la taglia S va bene. In generale se degli altri costumi ho portato una S o portate una 40 barra 42, la S vi va bene. Ora passiamo ai capi di abbigliamento e ho acquistato anche un paio di scarpe che poi vi farò vedere, sono rimasta stupita anche di quelle. Comunque in questo video per la maggior parte vedrete body, non lo so, è una mia fissa, in questo momento io mi sono fissata con i body perché li trovo molto utili e soprattutto molto comodi. A parte comodi quelli di Shein, ma in generale i body li trovo comodi perché io utilizzo molto sia gonne che pantaloni e vita alta. Mettere la maglia sotto, la camicia sotto mi risulta scomodo perché come mi muovo poi mi esce, invece con il body mi rimane tutto dentro. Comunque, passiamo al body. Il primo è questo, molto semplice, c'è il colletto, leggermente le maniche riportano lo stesso motivo del collo. È a costina ed è un tessuto né troppo leggero né troppo pesante. È la via di mezzo per questa stagione, per la primavera e per l'autunno. È un po' stropicciato anche solo stirato e lavato, ma vabbè. Comunque, come potete vedere questo è il body. Il collo rimane così, leggermente diciamo a metà collo. È leggermente trasparente, però vabbè io adesso ho preso il primo reggiseno che mi è capitato, l'ho preso nero. Ovviamente sotto il chiaro si vede, ma secondo me con un reggiseno sul nude questo effetto non si vede. Così, come vedete, la taglia è perfetta, la S è per me. Anche di manica. La manica poteva essere leggermente più lunga, ma comunque anche così va bene. Poi ho preso un altro body sul nero, con il collo alto ribaltabile, poi vi farò vedere indossato com'è. Anche questo sempre a costine. E di questi qui ne ho acquistati due, uno per me e uno per mia mamma. Anche questo tessuto molto morbido, è leggermente più pesante dell'altro, di quello lì, chiaro. Però anche questo non è in lana, è comunque in quel cotone un po' più pesantino, diciamo, per la primavera, appunto primavera-autunno. Questo è l'altro, con il collo che si può rigirare. E anche questo come taglia S ci siamo. Questo lo stesso rimane aderente come il primo. È un po' trasparente anche questo, sinceramente. Ultimo body. Anche questo ha costine. Collo leggermente più basso dell'altro, cioè non è ribaltabile a colletto alto, ma arriva più o meno fino a qua. Poi comunque lo indosserò. Con la manica, queste maniche qua, che a me quest'anno piacciono, quest'anno e l'anno scorso, mi sono piaciute molto. La manichina un po' boia, la chiamo manichina sbuffo, poi sinceramente non so realmente come si chiama. Anche questo ha maniche lunghe, appunto, perché io al momento ancora utilizzo le maniche lunghe. Fatto così. Anche questo in cotone è un po' più pesante. Insomma, non è il cotone, almeno a quanto a tatto, non lo sento, non sento quel cotone freddo, proprio quello proprio estivo. È leggermente una via di mezzo tra la lana, la lana battuta e il cotone. Comunque, come dicevo prima, è un cotone adatto appunto a queste stagioni di mezzo. L'altro body. Anche questo ha il collettino un po' più, rimane più basso. sempre a costine. Ed è questo qui, è quello lì con le manichine a sbuffo. Questa, la taglia S, rimane sinceramente leggermente più morbida rispetto all'altro, è meno precisa. Però comunque, diciamo che la mia taglia è lei. Insomma, vedete qua, rimane leggermente più largo, però non è eccessivamente largo, nel senso che comunque veste bene. Ora passiamo a due maglioncini e un gilet. Allora, il maglione in questione, io ho tutti i due maglioncini, sono tutti i due crop, crop comunque corti, appunto sempre per il motivo di prima che io ho sia gonne che pantaloni a vita alta, perché con la vita normale non mi trovo più a indossarli. E mi piacciono molto come risultano su di me a vita alta. Quindi cerco sempre delle magliette che arrivino o leggermente sopra il pantalone, o leggermente sopra la vita, o comunque che arrivino giusti, pari con la vita. Allora, il primo maglioncino è questo qua, nero. E così. La manica, così, riporta il motivo del davanti qua. Adesso se riesco. Eccolo. E anche questo sembra, non sembra la lana quella lì che picca, sembra molto morbido. E anche abbastanza pesante. L'ultimo maglioncino, è quello lì che risultava appunto più crop e più stretto, questo è più giusto, ma è proprio il modello diverso, l'altro rimane più over e questo rimane giusto. Ed è sempre fatto con l'AV, trecce. Vedete il dettaglio che vi dicevo prima nella manica che riprende la treccia del davanti. E anche questo è molto morbido, anzi, vi dirò che sembrava anche più pesante dell'altro, leggermente più pesante dell'altro. Maglioncino bianco. Questo invece è tutto con queste trecce ed è leggermente più lungo dell'altro. Ma comunque rimane corto, poi vedrete quando lo indosso. Maniche sono fatte così. Con l'elastichino qua. Perché a me sinceramente quei maglioni ne ho visti tanti, molto bellini, anche con la manica larga qua al buffo tutto, però il sotto non aveva l'orlo nella manica, cadeva larga e a me dopo quando mi va sopra le mani o una manica del genere mi dà fastidio sinceramente. Quindi ho preferito acquistare questi che hanno comunque il cannone alto anche nella manica. Questo è il maglioncino bianco. Carino. Non picca per niente. Il collo è leggermente scavato. Anche perché a me, devo dire la verità, io ho i maglioni di solito non li compro mai a collo alto perché mi dà fastidio. A parte che la lana in generale mi picca, mi dà fastidio. Io ho una leggera allergia, quindi non potrei proprio metterla a contatto con la pelle. Però a prescindere da questo, comunque il collo alto mi dà fastidio, mi sento soffocare. Quindi la maggior parte delle volte prendo appunto il collo a V scavato o questi colli qua così. Che secondo me comunque sono carini uguali. Anche questo, non mi ricordo se ve l'ho detto, è sempre in taglia S ed è sempre giusta. Ultimo capo di abbigliamento. Un gilet. Non so, sono andata in fissa con i body e con i gilet e io adesso quindi acquisto solo body e gilet. Allora, questo qui, non so se vi ricordate, è molto simile a quello nero che avevo fatto nel precedente acquisto di Shein. Solo che questo rimane leggermente più lungo. Ma comunque va bene con i pantaloni che indosso io, pantaloni o comunque gondo o pantaloncino che sia. Questo sinceramente anche con il body che vi ho fatto vedere all'inizio sotto chiaro con un pantalone bruciato mi piace molto. Infatti io l'ho comprato apposta perché ho un pantalone sul bruciato e non sapevo mai come abbinarlo e ho preso la palla al balzo. Qua rimane leggermente ampio. Questo è il gilet. E risulta un po' largo perché comunque è tra quelli che rimangono un po' over. Però sinceramente mi piace molto. Così, qua. Comunque vedete che anche con un pantalone a vita alta, il pantalone mi arriva qua, però come vedete è bellino lo stesso comunque. Ora passiamo alle scarpe. Allora, ho acquistato questi scarponcini qua. Fatti così col tacco leggermente alto che ancora non li avevo. Perché anche quando esco magari che non so, che non ho voglia di mettere il tacco, magari alti o di solito, quando si poteva uscire sabato sera, solitamente avevo sempre una scarpa con il tacco alto. Ma magari capitava delle volte che dicevo non ho voglia e rimanevo con la mia scarpa bassa, con il mio stivaletto, con il mio anfibio. Invece questa qui, secondo me, può essere una valida alternativa. Più che altro li ho acquistati per il pantalone e per uscirci al pomeriggio. Perché delle volte mi capita che magari voglia di mettere una scarpa diversa, ma non mi va nel solito stivaletto punto basso. E questa qui mi sembrava un'ottima idea, sinceramente. Fatti così, dietro hanno la zip. Ovviamente si chiude. Il numero è il 37. Io porto il 37 e io ho preso il 37 e corrisponde. Comunque se vi affidate sia per le taglie, sia per le taglie delle scarpe, se vi affidate ai centimetri che ci sono lì nella loro tabellina, vedrete che non sbaglierete, cioè ci prendete e realmente corrisponde, i centimetri che indicano loro, realmente corrispondono alla vostra taglia. Ora passiamo alle scarpe. Vedete come vi dicevo, col pantalone, anche con il risvoltino. Ovviamente non con questo calzetto, ma io in questo momento avevo quello. E queste sono le scarpe. Comunque messe da così sembrano molto molto comode. Ancora non ci ho camminato, però a prime impressioni sembrano comode. Mi stavo dimenticando dell'ultimo acquisto, che è questo cerchietto qua che ho indossato in questo momento. Questo qui più che altro io di solito non vado in giro, a parte che a me proprio il cerchietto mi dà fastidio, mi fa venire mal di testa. Però l'ho acquistato magari per poter fare i video, per essere un po' più sistemato, per cambiare un pochino, diciamo, anche quando faccio i video. Mi stavo dimenticando che nel momento in cui io ho ordinato, con una spesa maggiore di 59 euro, c'erano... potevi scegliere tra due regali in omaggio. E io ho scelto questa pochettina. Devo dirvi la verità, ho scelto l'omaggio meno peggio. Ho scelto questa pochettina, che potrebbe essere comunque utile anche da viaggio, per metterci trucchi, per metterci i pennelli, oppure anche per metterci le mini site di bagno schiuma, le creme, insomma, una pochettina da viaggio. Non mi sembrava male come idea, per quanto non mi piaccia l'abbinamento di colori, però poteva essere una cosa utile. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere nuovi video. E ci vediamo nel prossimo!